. Eliminato ballando con le stelle 2018 del 28 aprile, fuori Jessica Notaro Cancelletto ballando con le stelle 2018 si avvia verso il gran finale di questa edizione. . Le sei coppie rimaste in gara si sono esibite nuovamente al cospetto della giuria e soprattutto del pubblico. Che come ben saprete ha sempre l'ultima parola in questa gara di ballo condotta con successo da Millie Carlucci. . Cambia la programmazione di ballando con le stelle 2018. . Anche questa sera tra le esibizioni più apprezzate dalla giuria dello show di Rai 1 vi è stata quella di Francisco Porcella così come quella di Cesare Bocci, che hanno totalizzato circa 40 punti. . I due al momento, assieme a Giovanni Ciacci, sembrano essere anche i favoriti del pubblico, uno di questi tre concorrenti sarà il vincitore finale di quest'anno?. . Ormai manca davvero poco al gran finale di questa edizione, visto che la prossima settimana ci sarà semifinale di Ballando con le stelle 2018, dove verranno annunciati i nomi dei finalesti ufficiali. . . Tuttavia possiamo svelarvi che il 12 maggio la trasmissione di Millie Carlucci non sarà trasmessa per lasciare spazio alla diretta dell'Eurovision 2018. . La finale di Ballando, quindi, si terrà il 19 maggio in Prime Time su Rai 1. Riassunto Ballando con le stelle del 28 aprile, l'eliminato è. . Nel corso di questa nuova puntata dello show di Rai 1 abbiamo visto che nelle vesti di ballerina per una notte è arrivata Suor Cristina. . . Che ha raggiunto il massimo della popolarità e del successo nel 2014 con Tevo Icce, che vinse battendo tutti i record possibili al televoto. . Suor Cristina se l'è cavata molto bene anche nelle vesti di ballerina con Chiui stando un tesoretto complessivo di 50 punti. . Ma chi è stato eliminato al termine della puntata di Ballando con le stelle del 28 aprile?. . Iniziamo col dirvi che questa sera c'è stato lo spareggio tra le sei coppie di concorrenti eliminati, le quali si sono sfidate per ritornare di nuovo in gara. . . Al termine dell'esibizione il pubblico ha scelto di eliminare definitivamente, Don Diamante, Eleonora Giorgi e Cristina Icce. . . Il verdetto del televoto di questa settimana ha stabilito che ad avere la peggio fosse Jessica Notaro. . La quale ha dovuto affrontare lo spareggio con Massimiliano Morra, Amedeo Minghi e Stefania Rocca. . La Notaro si è sfidata con Minghi e alla fine ha avuto la meglio accedendo così alla semifinale. . . Nella seconda sfida ha vinto Massimiliano Morra che ha eliminato Stefania Rocca. . . Ricapitolando, quindi, l'eliminato dell'ottava puntata è stata Jessica Notaro, la quale poi si è salvata allo spareggio finale e i due eliminati definitivi dalla gara sono stati Stefania Rocca e Amedeo Minghi. . 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 Grazie a tutti.